Si è svolta questa mattina davanti al monumento dedicato alle vittime della Uno Bianca nei pressi dell'ingresso del supermercato Copi Portici di via 23 Settembre, la cerimonia per ricordare nel 25esimo anniversario della morte con una corona dall'oro Giampiero Picello, guardia giurata o ucciso dalla banda della Uno Bianca. Hanno ricordato Picello e le altre 23 vittime di quei terribili sette anni di terrore, le autorità civili cittadine e delle forze dell'ordine di sicurezza. Io vi adisco, io ho sempre detto che non ce l'ho con la polizia tutta perché ci hanno le cose come stanno, sono questi criminali, noi li abbiamo con loro, con questi che vi hanno giurato di rispettare la sua divisa, invece l'hanno macchiata ignobilmente. Presente alla cerimonia anche Gabriella Bianchini, vedova del sovrintendente Antonio Mosca, che nell'ottobre 87 fu ferito mortalmente nel corso di un conflitto a fuoco con la banda della Uno Bianca e l'agente della polizia di Stato, Ada Di Campi, anche lei ferita nella medesima sparatoria. I momenti come quelli di oggi servono per non dimenticare le persone che non ci sono più o le persone come me che hanno subito una violenza fisica e psicologica. Oggi siamo qui per ricordare la guardia giurata che non c'è più e questo consente proprio alla città di Rimini di tenere vivo questo ricordo perché cose così non dovrebbero succedere mai più. Picello fu assassinato davanti al supermercato Cop durante un tentativo di rapina. Fu la prima delle 24 vittime della banda della Uno Bianca che insanguinò l'Emilia Romagna e le Marche tra l'87 e il 1994. La cerimonia è stata preceduta da un'iniziativa nell'Aula Magne del Valturio. Davanti agli studenti dell'Istituto e del Liceo Einstein hanno ripercorso quei tragici avvenimenti. Rosanna Zecchi, Stefania Zecchi, figlia di Primo Zecchi, vittima del sodalizio criminale. Antonella Beccaria, giornalista, autrice del libro Uno Bianca e Trame Nere. Sara Donati, presidente del distretto Coppa Adriatica.